Cambio in panchina alla Darold Logistics Belluno, impegnata nel campionato di Serie 3 maschile. Le cinque sconfitte consecutive dell'ultimo periodo, che diventano sei se si allarga il conteggio alle ultime sette gare, costano la panchina al tecnico Diego Poletto, il quale allenava la squadra del capoluogo dal 2019. Al suo posto subentra Luigi Schiavon, il quale ha diretto ieri sera il primo allenamento. La sua storia pallavolistica è legata in particolare a Padova, anche se la carriera da primo allenatore è iniziata a Treviso in A2 nel 1983. Nella città del Santo approda nove anni più tardi in qualità di vice di Silvano Prandi, mentre nel 97-98 gli viene affidato il timone della squadra. Nel 1999 inoltre approda in Nazionale Juniores e in quella maggiore affiancherà il commissario tecnico Andrea Anastasi. Dopo l'esperienza Trieste, Schio e Mantua torna a Padova nel 2005 e nel 2012. Segue inoltre il club Italia Aeronautica Militare, fa il direttore tecnico della selezione del Friuli Venezia Giulia ed allena anche in Slovenia alla Nova Goriza femminile. A lui il compito dunque di risvegliare l'entusiasmo della squadra, ottenendo quei tre punti mancanti alla salvezza nelle ultime due partite. Domenica c'è la trasferta in Emilia contro Porto Maggiore, poi il 10 aprile si chiude il campionato in casa contro Prata.